Buongiorno a tutti, oggi è sabato 24 settembre. Ascoltiamo il Vangelo secondo Luca, capitolo 9, versetti dal 43 al 45. In quel giorno, mentre tutti erano ammirati di tutte le cose che faceva, Gesù disse ai suoi discepoli, mettetevi bene in mente queste parole. Il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini. Essi però non capivano queste parole, restavano per loro così misteriose che non ne coglievano il senso e avevano timore di interrogarlo su questo argomento. Il Vangelo di oggi ci fa meditare il secondo annuncio della passione che troviamo nel Vangelo secondo Luca. Il primo annuncio della passione che Luca inserisce nel suo Vangelo è avvenuto, come abbiamo contemplato proprio ieri, in un contesto di preghiera e solitudine. Questo secondo annuncio invece avviene mentre tutti erano ammirati di tutte le cose che faceva, quindi in un contesto in cui l'atteggiamento di meraviglia nei riguardi di Gesù era riconosciuto e riconoscibile da tutti. Però anche in questo testo, come in quello in cui Luca inserisce il racconto del primo annuncio della passione, Gesù prende le distanze con la sua fama e la sua notorietà. Non a seconda il senso di meraviglia di tutti, ma si rivolge ai suoi discepoli per mostrare loro un'altra via, una via che è sua, che è quella della passione, della croce. L'annuncio riguarda lo stesso evento, però viene comunicato in modi differenti. Nel primo annuncio della passione Luca ci trasmette che Gesù abbia fatto riferimento esplicito alla sofferenza che avrebbe patito nella sua passione. Gli dice il figlio dell'uomo deve soffrire, dove quel deve, in greco dein, viene usato da Luca per indicare il piano di salvezza del padre che si deve compiere e dove il soffrire indica proprio la sorte del giusto oppresso, perseguitato, quella la sorte del servo sofferente che ritroviamo in Isaia, capitolo 53. In questo secondo annuncio invece della passione Gesù dicendo ai suoi discepoli mettetevi bene in mente queste parole, sottolinea l'importanza del fatto che questo annuncio ripetuto per la seconda volta si ripropone in modo più profondo del precedente annuncio e infatti dice il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini. Innanzitutto Gesù parla di sé come figlio dell'uomo e questa espressione compare anche in altri annunci della passione. Quello che precede questo, quindi il primo annuncio che si trova in Luca 9, 21, 27 e quello che segue questo annuncio, quindi che si troverà nel capitolo 18 versetti 31-34. Si tratta di un'espressione che ricorre per ben 93 volte nell'Antico Testamento, ecco sulla quale esistono diverse spiegazioni. Secondo alcuni esegeti si tratta di un'espressione ripresa dal libro del profeta Ezechiele e viene usata spesso per indicare il profeta stesso che appunto si identifica con questo figlio dell'uomo che significa semplicemente uomo fragile e debole però scelto da Dio proprio come profeta. Altri studiosi invece preferiscono spiegare l'espressione figlio dell'uomo come una ripresa del libro di Daniele che qualifica la letteratura apocalittica biblica e anche postbiblica e che sarebbe quindi a indicare Cristo stesso ma come giudice escatologico. Nonostante quindi la diversità di interpretazioni una cosa è comune a questi studiosi. La denominazione figlio dell'uomo è uno dei titoli cristologici più arcaici perché viene usato da Gesù stesso per indicare la realtà fragile umana che ha interessato la sua persona in particolare nella kenosi cioè nel passare per l'umiliazione e l'annullamento della croce. Ecco in queste poche righe il Vangelo oggi ci annuncia il senso profondo della passione di Gesù che ha vissuto per noi. Egli non ha subito la croce ma si è consegnato nelle mani degli uomini. Così Luca mette davanti a noi Gesù che sta per essere consegnato. Ecco contempliamo la docilità di questo consegnarsi del Signore che è il compimento di tutto perché nella consegna del figlio fino all'ultimo respiro è l'opera del Padre che si è compiuta. Chiediamo allora oggi al Signore di donarci la docilità del cuore per poter accogliere profondamente l'amore con il quale Gesù ancora oggi si consegna a noi come via, verità, vita e come pane della vita. Portiamo la pace di questo amore tenero e docile in questo giorno di sabato consegnando il nostro sorriso come dono a tutti quelli che oggi incontreremo. Buona giornata.